Dobbiamo sperare nei rigoristi, o almeno una volta li chiamavano così. Oggi invece sembra sia stato inventato un neologismo, un altro l'ennesimo neologismo, i frugali. Chi sarebbero i frugali? Beh, sarebbero quei paesi dell'Unione Europea, Austria e Olanda in testa, che sono contrari a ridurre o allentare le restrizioni economiche sui conti pubblici dei vari stati. Sono contrari ad aumentare quella che una volta veniva definita la flessibilità. Insomma, sono contrari ad aumentare il debito pubblico. Figuratevi ora che si parla addirittura di una maggior solidarietà in campo economico fra i paesi dell'Unione Europea. La vedono come il colera. Ebbene, io ribadisco a scanso di equivoci. Non è un refuso quello che ho detto all'inizio. Quei paesi, Austria e Olanda, sono la nostra salvezza. Se per la loro intransigenza noi saremo costretti ad uscire dall'Eurozona, io lo giuro vado personalmente da Kurz, il primo ministro austriaco, e da Rutte, il primo ministro olandese, a ringraziarli e sarò grato a loro per sempre. Purtroppo, purtroppo non mi faccio troppe illusioni. Con questo governo poi non ne parliamo. Abbiamo delle persone, gualtieri su tutti, e quando vanno in Europa ormai non si incinocchiano neppure più. No, direttamente si sdraiono a terra a pelle d'orso, così, mentre i colleghi europei salgono loro sopra per pulirsi le scarpe. Accantonato il MES, almeno così sembra, visto che a richiederlo dopo il rifiuto anche della Grecia pare che sia rimasto solo Marattina, ossia Italia Viva. Insomma, ora si parla di Recovery Fund. Però davvero, lasciatemelo dire, se dovessimo davvero ricorrere ai fondi del MES sarebbe indubbiamente il più grande scandalo dall'unità d'Italia. Intanto andrebbero già cancellati oggi dalla scena politica tutti coloro che nei giorni scorsi, che nelle settimane scorse si erano dichiarati favorevoli a richiedere il MES sostenendo che era molto conveniente. Il MES, anche quello light ovviamente, stiamo parlando di quello, è talmente conveniente che nessuno Stato lo ha richiesto. Nessuno! Il MES era talmente conveniente e da prendere al volo che anche i greci l'hanno rifiutando dicendo che il MES è uno strumento per gli sfigati, per i paesi sfigati, ossia per quegli Stati che non riescono a trovare in nessun altro modo di che finanziarsi. Quindi loro che al momento non sono sfigati e si finanziano normalmente sui mercati non hanno necessità di farne richiesta. E allora io dico ma se anche la Grecia, non solo la Francia, la Spagna e il Portogallo, ma se anche la Grecia fa dichiarazioni di questo tipo, come è possibile che ci siano ancora degli italiani che si dimostrano favorevoli a richiedere il MES? Mi chiedo ma non si vergogna Italia viva a mandare in tv il suo responsabile economico Luigi Marattina e a sostenere che dobbiamo richiedere il MES perché è molto conveniente. Io veramente mi rifiuto di pensare che Marattin sia talmente stupido da proporre una follia del genere. Ed allora occorrerebbe chiedersi ma cosa c'è dietro? Cosa c'è dietro? Ovviamente la stessa domanda dovremmo porci per il Partito Democratico. Cosa c'è dietro? Per quanto riguarda invece Berlusconi, sì, potremmo forse anche per lui chiederci cosa c'è dietro ma forse in quel caso non c'è qualcosa di losco ma semplicemente scarsa lucidità mentale. attenzione però cari ascoltatori perché pur essendo diverso il recovery fund non è meno pericoloso anzi sotto certi punti di vista è ancora più pericoloso semplicemente perché la mistificazione della disinformazione mediatica con il recovery fund raggiunge i massimi livelli. Il MES infatti beh col MES non potevano nascondere che fosse un prestito. E allora i tv, radio e giornali di regime hanno cercato in tutti i modi di far passare la balla che fosse erogato senza condizioni. Ma anche questa balla è stata ampiamente smascherata. Conte ha cercato di accettare il MES non pronunciandosi mai in maniera definitiva ma dopo che anche la Grecia si è dichiarata contraria perché è una misura da sfigati ora si ritrova in difficoltà nel richiederlo e pare anche il nostro premier indirizzato a non farne richiesta. La disinformazione mediatica che come ho detto non poteva spingersi troppo in là con il MES sta invece superando ogni limite con il Recovery Fund. A parte il fatto che insomma anche qua bisogna fare un attimo di chiarezza. Dunque di Recovery Fund i nostri media ci hanno raccontato che se ne era parlato sia all'Eurogruppo cioè alla riunione dei ministri dell'economia dell'Unione Europea che è al Consiglio Europeo cioè l'organo che riunisce i capi di Stato e di Governo sempre dell'Unione Europea. Ebbene dai verbali e dai resoconti di quelle riunioni non sembrava proprio ci fosse stato un dibattito in tal senso sembrava infatti che così se ne fosse fatto cenno ma eventualmente era un generico impegno futuro ad escogitare qualche strumento di quel tipo. Poi invece a sorpresa si riuniscono in gran fretta in gran segreto Macron e la Merkel ossia Francia e Germania e da quell'incontro si parla di qualcosa che possa assomigliare al Recovery Fund ma non un vero Recovery Fund infatti i media italiani all'inizio lo chiamano fondo di rilancio così non proprio Recovery Fund ma di fatto comunque si sta parlando della stessa cosa ossia di un piano i cui fondi arriverebbero dal budget della Commissione Europea effettivamente quando si parlava di Recovery Fund si ipotizzava un fondo come minimo di mille miliardi ma molto più probabilmente di almeno mille cinquecento miliardi mentre dall'incontro bilaterale Macron-Merkel la proposta che ne è uscita è per cinquecento miliardi può anche essere che Macron e la Merkel abbiano voluto intanto così proporre una cifra più bassa per aumentare la probabilità di convincere anche quegli stati tradizionalmente più critici quelli che oggi abbiamo definito frugali a non opporsi insomma tanto per vedere l'effetto che fa ma comunque insomma al di là di queste sottiliezze la cosa diciamo più scandalosa è come i media si sono affrettati a raccontare frotto e la più grossa di tutte veramente è che i soldi arriverebbero a fondo perduto allora chiariamo per coloro che magari non conoscono bene questa terminologia a fondo perduto significa che chi riceve quei finanziamenti non è tenuto a restituirli insomma sono soldi che gli vengono regalati e già qui cari ascoltatori io vi chiedo se c'è solo uno di voi talmente imbecille da pensare che Macron e la Merkel si riuniscono in gran segreto per fare cosa? Per fare un grande un ma che dico grande un gigantesco regalo all'Italia addirittura 100 miliardi di euro avete presente quanto sono 100 miliardi di euro? qualcosa come tre finanziarie non solo una cosa del genere è impensabile non so come dire ancora non so più che impensabile ma ve lo immaginate voi Macron che si presenta alla tv francese la tv pubblica francese e annuncia che la Francia in accordo con la Germania ha deciso di fare un regalo all'Italia di 100 miliardi magari appunto per recuperare quell'importo sarà costretto ad aumentare le tasse ai francesi per poi dare i soldi agli italiani dove minimo i gilet gialli assaltano l'Eliseo altro che presa della Bastiglia e Macron fa una fine peggio di quella di Maria Antonietta plus della Concorde e dalla Merkel insomma ritengo che non vada molto meglio in Germania ma nonostante questo ecco adesso così l'ho buttata un po' in ridere ma voi leggete queste cose sui giornali di regime delle delle falsità cioè è ignobile quello che questi giornali e questi media raccontano questa gigantesca questa ciclopica balla che avremo 100 miliardi di euro a fondo perduto come si fa ad essere così falsi e ipocriti ripeto mi riferisco ai nostri media se proprio al termine dell'incontro bilaterale quando Macron e la Merkel hanno illustrato la loro proposta Macron ha esplicitamente detto riporto le sue testuali parole questi 500 miliardi destinati alla ricostruzione dovranno essere rimborsati è ovvio anche perché scusate ma chi è che può così regalarvi dal nulla dei soldi eventualmente solo la banca centrale o se poi volessimo magari essere ancora più pignoli magari neanche quello ma insomma la banca centrale o il sistema bancario è solo in grado di emettere moneta detto questo però almeno una novità ci sarebbe altrimenti veramente sarebbe stato il nulla dunque abbiamo detto che i soldi quindi arriverebbero dal bilancio della commissione europea e ovviamente questi soldi devono ritornare alla commissione europea però tornerebbero alla commissione europea non in base a quanto ricevuto ossia se lo stato x ha ricevuto 10 deve rendere 10 se lo stato y ha ricevuto 20 deve restituire 20 ecco no ogni stato restituisce in base alla propria quota di partecipazione all'unione europea e allora con dei numeri forse ci capiamo vediamo proprio nella migliore delle ipotesi eh anticipo che questa sarebbe quasi impossibile per noi ma comunque ammettiamo per assurdo che davvero tutti gli altri paesi si dimostrassero estremamente solidali con noi siamo appunto il paese più colpito da questa crisi i soldi quindi verrebbero distribuiti in proporzione ai danni ricevuti dal proprio sistema economico da parte del coronavirus dato che l'Italia è il paese più colpito si dice che all'Italia potrebbero arrivare 100 miliardi chiariamolo è che al momento sono solo ipotesi e questi sono dei numeri buttati lì bene allora quanto dovremmo restituire beh la nostra quota di partecipazione all'incirca nell'Unione Europea è del 18% quindi noi dobbiamo contribuire per il 18% della montare totale del fondo che abbiamo detto essere di 500 miliardi e il 18% di 500 miliardi sono 90 miliardi quindi nella migliore delle ipotesi ossia proprio al massimo diciamo ci stanno regalando 10 miliardi ossia ce ne danno 100 e ne restituiamo 90 direte meglio di niente certo ma ricordatevi che noi l'Italia noi da 20 anni diamo all'Europa molto di più di quanto riceviamo indietro cioè da 20 anni avviene questa cosa ma a nostro danno e ogni anno e per una volta che non ci rimettiamo insomma che cosa dobbiamo fare stampare bottiglie di champagne fare fuochi d'artificio per cosa dobbiamo festeggiare ma poi attenzione ripeto non entro nei particolari ma quello che vi ho prospettato è veramente la circostanza migliore che ci possa capitare con ogni probabilità se ci va bene facciamo pari mentre tutti i media di regime e i partiti di governo in pratica cosa vi stanno dicendo che ci regalano 100 miliardi ma poi io continuo a sottolineare un altro fatto a mio avviso estremamente rilevante noi non dobbiamo fare debiti con gli altri stati ma limitarci al massimo ad aumentare il nostro debito pubblico semplicemente per due motivi sostanziali il primo è che il debito pubblico alla scadenza lo possiamo sempre rifinanziare i debiti con gli altri paesi no se alla scadenza loro vogliono i loro soldi dobbiamo restituirli come ogni debitore ovviamente deve fare nei confronti del creditore il secondo motivo è ancora più importante ossia che il debito pubblico qualora noi ausplicabilmente dovessimo abbandonare l'euro quel debito pubblico può essere convertito nella nostra nuova moneta e quindi essere sempre onorato avendo a disposizione una banca centrale mentre un debito con gli altri stati deve essere restituito nella moneta nella quale è stato contratto quindi a noi verrebbe alla fine a costare molto di più insomma in conclusione sia ben chiaro che se per il recovery fund la cosiddetta condivisione del debito è già una balla quella che siano soldi a fondo perduto è proprio la balla più gigantesca che sia mai stata inventata una balla inventata dai nostri organi di disinformazione perché anche Macron e la Merkel non si sono mai azzardati a raccontare questa balla hanno sempre detto che si tratta di un prestito e come tutti i prestiti deve essere rimborsato a